Tutti ai tropici, una fuga esotica andata in fumo. Il vostro volo non parte. Scatta il piano B. Mio padre, tua madre, mia madre, tuo padre. Splendido. Sì, dobbiamo vedere tutte e quattro le famiglie in un giorno. Oddio, come altro. In casa di mia madre ha un covo di città del lupare. È vera pelle. Piacere di conoscere, signore. Mentre la famiglia di lui... Orca! Per il ciclo Magic Night, tutti insieme inevitabilmente. Sei un idiota! Giovedì in prima serata, sulla 5.